T-Sport 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 Perché l'amore tra Sosa, Firenze, la Fiorentina, la società sembrava inattaccabile. Così non è e soprattutto non si è confermato nel tempo con il passare delle giornate, con il passare anche delle sessioni di mercato e credo che questo sarà uno dei punti decisivi a fine stagione. Quindi già dalle ultime settimane di maggio il tecnico immagino vorrà avere delle rassicurazioni per capire che tipo di stagione si vorrà intraprendere. Perché, lo ripetiamo, il quarto posto fa venire qualche rammarico, qualche rimpianto per quello che è stato il giorno d'andata, ma resta un piazzamento assolutamente al di sopra di quelle che erano le aspettative a inizio anno e anche quello che è stato il mercato a gennaio dove di fatto non è arrivato un difensore. A centro campo non si è ancora visto con E. Il contributo di Tino Costa, anche rispetto a quanto visto nell'ultimo match con la Sampdoria, non è stato assolutamente all'altezza né di Badel né di Vessino né tantomeno di un giocatore che dalla panchina avrebbe dovuto dare un po' di respiro anche ai due giocatori soprecitati. Quindi in questo senso il mercato entra a stretto contatto con quello che sarà il futuro di Paolo Sosa e poi ovviamente spazio ai tanti nomi, uno su tutti, se così dovessi ad oggi, siamo all'inizio aprile, in un ipotetico caso di Paolo Sosa via da Firenze, punterei su Stefano Pioli. Che tra l'altro conosce bene l'ambiente, è un ex giocatore della Fiorentina e ha comunque collezionato delle stagioni importanti, prima a Bologna, poi a Roma con la Lazio, mandato via forse con una tempistica un po' rivedibile, ma soprattutto l'anno scorso capace di portare la squadra bianco-celeste al terzo posto e che quest'anno ha dovuto affrontare forse una situazione ben al di sopra di quelle che erano anche le sue possibilità. Sicuramente Stefano Pioli che insieme alla sua Lazio è stato protagonista di una stagione assai tribolata, a partire proprio dall'eliminazione in quel preliminare conquistato col terzo posto, eliminazione patita per mano del Bayern Leverkusen e poi insomma tutta la stagione sicuramente è stata molto più complicata per lui, ma è uno dei nomi sicuramente buoni per un'eventuale successione a Paolo Sosa. Adesso lasciamo il mondo del calcio, andiamo a parlare di pallavolo perché ieri a San Casciano Val di Pesa si è tenuta una serata dedicata a sponsor e Savino del Bene, una serata appunto di sinergie, di sinergie fiorentine tra la squadra scandicese che ha raggiunto i play-off nella massima serie di pallavolo femminile e appunto tutte le realtà del territorio, anche eccellenze del territorio, che hanno deciso di legare il loro nome a quello della Savino del Bene, Vole e Scandici. Andiamo a sentire il servizio e in particolar modo anche le parole di Valentina Ferin, giocatrice che era presente alla manifestazione. Nella serata di ieri presso l'auditorium di Chianti Banca a San Casciano Val di Pesa si è tenuta una serata con ospiti tre delle giocatrici della Savino del Bene e Scandici che al termine della regular season dia 1 ha ottenuto l'accesso ai play-off scudetto della massima categoria femminile di volley. Presenti infatti Valentina Fiorin, Chiara Scacchetti e Alice Giampietri che il prossimo 13 aprile saranno protagoniste della prima gara dei quarti di play-off contro la Nord Meccanica Piacenza. Il loro terminale d'attacco principale, la Mainers, non ha giocato l'ultima partita, probabilmente ha avuto un risentimento, una caviglia, non so. Però penso che per i play-off saranno cariche e pronte, perciò noi speriamo di sfruttare la prima gara che abbiamo in casa, spinta dal nostro pubblico, spinta dalla voglia di far bene e poi si vedrà. Essendo la squadra più debole, quello che dobbiamo tirare fuori per sperare di andare avanti e di vincere è un po' la spavalderia, forse un po' di coraggio in più e di fiducia in più di riuscire a fare lo scherzetto, il fatto di non partire avvantaggiati e di sapere allo stesso tempo che si può battere chiunque. Questo è l'arma in più, sicuramente. Alla presenza anche del DS Massimo Toccafondi, le giocatrici hanno incontrato i numerosi sponsor che hanno legato il loro nome alla formazione fiorentina di volley. Dalla MSC Crociere, che è stata con le sue navi anche il palcoscenico del calendario della Savino del Bene, a Copyworld, passando per linea. Per noi l'esperienza di quest'anno con Savino del Bene è stata molto importante e gratificante. Siamo un'azienda che fa trasporto pubblico e trasporto con l'autobus. Abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con Savino del Bene, di portare le ragazze e i tifosi alle partite, sia in casa che in trasferta e il campionato ci ha fatto seguire questa avventura di Savino del Bene dall'inizio alla fine con gli splendidi risultati che la squadra ha raggiunto. Siamo molto contenti come Chianti Banca di essere partner e sponsor di Savino del Bene, contenti dei risultati sportivi, perché poi alla base di tutto c'è anche la soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo e quindi come Banca siamo orgogliosi di partecipare alle loro vittorie. Per noi è stata una bellissima sorpresa e un vero piacere essere sponsor di questa squadra, perché le nostre realtà si avvicinano e c'è una sinergia territoriale in noi come impresa, loro come sport, per cui siamo molto felici di essere entrati in questo mondo e di poter essere coinvolti nel successo di questa squadra, che è veramente un grande successo e di vero orgoglio a livello sportivo e a livello umano. Non solo gli sponsor intervenuti a questa serata, in cui erano presenti come detto Valentina Fiorin, Chiara Scacchetti e Alice Giampietri, ma anche l'assessore allo sport del comune di Scandicci, Andrea Anichini, grande appassionato di Savino del Bene, ovviamente per il ruolo istituzionale, ma anche proprio per una passione nata a livello sportivo. Noi andiamo ad ascoltarci proprio le parole di Anichini sulla sua passione per questa Savino del Bene, sulla possibilità della costruzione di un nuovo palazzetto che accoglierà proprio la squadra della patrona Nocentini e poi ovviamente anche sull'appuntamento dei play-off, dove Anichini dice certo che ci sarò, sarò sicuramente presente per la prima gara contro Piacenza. Andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore allo sport del comune di Scandicci. Devo dire che quest'anno c'è stata grande soddisfazione, sì, dicevi giusto, la passione, anche se il mio ruolo mi imporrebbe anche di essere sempre presente, ma lo faccio più che volentieri, perché la pallavoro femminile è un grande sport. Si vede molto volentieri, le partite sono molto gradevoli e poi soprattutto quest'anno ci siamo tanto divertiti. Abbiamo raggiunto i play-off e soprattutto abbiamo raggiunto un ottimo sesto posto, quindi possiamo davvero guardare il futuro in maniera positiva. La città, secondo anno, sta rispondendo, vedo sempre più crescere una grande passione intorno alla squadra e quindi ci si auspica che anche nei prossimi anni si possa ancora essere più felice di questo. Ma noi crediamo che da questa grande esperienza il territorio possa davvero essere protagonista anche di una riqualificazione urbana in quell'area e quindi si sta verificando la possibilità. Certo, un impianto nuovo, un impegno finanziario e anche di gestione importante e quindi attualmente si sta valutando la fattibilità dell'opera. Però ci auspichiamo che questo possa essere fattibile. Sicuramente ci sarò e devo dire che comunque anche il vecchio palazzetto dà tanto calore e il fatto che sia strapieno, che i tifosi, le famiglie, poi i tifosi fatti da tante famiglie della città vengano e lo occupano in maniera importante, dà tanto calore e credo sia stato il settimo giocatore, la settima giocatrice in campo e quindi di conseguenza, si è visto anche nei risultati, e quindi di conseguenza davvero ancora il nostro palazzetto può dare tanto, anche nei play-off. Allora staremo a vedere, come detto, 13 aprile la data della prima gara dei quarti di play-off per la Savino del Bene che alle 20.30 affronterà sul palazzetto di Scandicci la Nord Meccanica Piacenza in una gara che oppone sesta qualificata ai play-off a terza qualificata. Ovviamente stiamo parlando appunto di Piacenza che si è piazzata al terzo posto. Adesso Francesco andiamo a parlare di basket, ovviamente, quindi lasciamo il tema palla a volo e sicuramente qua invece di parlare dei play-off mi sa che dobbiamo stare molto più attenti ai play-out. Sì, perché è arrivata un'altra sconfitta pesantissima per la Fiorentina Basket che in questo ventisettesimo turno andava in trasferta per affrontare il fanalino di coda Mortara. È arrivato un K.O. al di là poi del passivo, meno 6, 69-63, quindi non è questo il nodo gordiano e non è certo questo il tema di cui dibatteri. Ma è stata la dimostrazione che questa squadra, anche per una congiuntura strada e non positiva, la stagione finita di Valentini in questo senso, lascerà comunque dei rimpianti e una sensazione di un qualcosa di incompiuto. Certo è che la nota lieta è che non si è mossa la classifica perché comunque è arrivata una sconfitta anche per Pavia sul parquet di Bergamo, è arrivata una sconfitta anche per Alto Sebino, ben più sofferta perché Varese ha avuto la meglio soltanto 81-80 sul parquet di casa. E in questo senso la Fiorentina resta sempre al limite della zona play-out, pari merito con Alto Sebino, ma in svantaggio per gli scontri diretti. Mancano tre giornate alla fine, quindi la Fiorentina è sostanzialmente obbligata a vincerne una in più di Alto Sebino, ma il calendario non dà una mano, anzi. Al di là poi di quello che può essere il calendario, Crema in casa, Vicenza fuori e Varese in casa per la squadra di Salieri, mentre Alto Sebino affronterà Vicenza in casa, poi in trasferta a Udine, poi chiuderà la stagione con la PMS. Quello che ha lasciato molti sospetti è stata anche la prestazione con Mortara, che ha messo in luce anche quelle che sono un po' le carenze croniche della squadra di Salieri, con un Tourette che probabilmente ha poca benzina in questo momento, lo testimoniano le 11 palle perse, al di là dei 19 punti, dei 7 rimbalzi, della prova intensa e di carattere. Fiorentina che ha collezionato 28 palle perse, che è un numero mostruoso nel basket. Nonostante abbia poi vinto anche la lotta al rimbalzo, e questa è certo una notizia per quello che è l'abitudine della squadra di Salieri, ha tirato molto male dal campo, sostanzialmente meglio da 3, 11 su 27, che è da 2, 9 su 28. Questa è a testimoniare anche una difficoltà nella circolazione di palla, pochi assist. Le condizioni fortunatamente dei vari Di Giacomo, dei vari Bianchi, vanno via via migliorando, ma come detto, tre giornate alla fine e a questo punto evitare i play-out non sarà semplice. Ripetiamo, 18 punti per Alto Sebino e per la Fiorentina, tre giornate dalla fine, ma la Fiorentina deve arrivare davanti, non può permettersi di arrivare pari merito, e in questo senso il destino quindi non è più solo e soltanto nelle mani della squadra di Salieri, che ripensando a qualche settimana fa, quando discutevamo di un calendario che poteva comunque dare una mano, adesso si trova a spalle al muro. Vedremo, intanto la sfida con Crema mette di fronte un avversario non semplice, perché Crema è in piena lotta per un ottimo piazzamento nei play-off. In questo momento è quinta, con 36 punti, 18 vittorie, 9 sconfitte, pari merito con Urania, due punti di vantaggio su Lecco e quattro su Vicenza. E poi Padova, che è in questo momento la proprietaria dell'ottavo spot nei play-off. E quindi si gioca anche la possibilità del fattore campo nel primo turno, e vincere in queste condizioni sarebbe l'ennesimo miracolo, però di un'annata fin qui con sicuramente più ombre che luci. Quindi contro Crema occorre un miracolo, e soprattutto occorre recuperare appieno le performance di Giacomo e di Bianchi, che sono ago della bilancia ovviamente per quanto riguarda il reparto esterni e il reparto lunghi. Per tornare anche a quanto detto da Antonio Fagotti, GM della Fiorentina Basket, qualche settimana fa all'interno dei nostri studi, sicuramente questo campionato è nato con alcune difficoltà legate proprio anche agli infortuni, alle corte rotazioni. Chiaro è che queste non saranno giustificazioni. Un giorno la Fiorentina Basket dovesse ritrovarsi a lottare per i play-out o addirittura appunto a doverli disputare, sempre con il rischio di retrocedere. Anche perché appunto, dalle parole di Salieri, abbiamo capito che questo è un progetto che ha voglia di continuare. però un step back, visto che parliamo di basket, un passo indietro sarebbe davvero disarmante. Sì, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, insomma un progetto che inizia con il passo del gambero non è un progetto che parte con il piede giusto, mettiamola un po' così, magari anche scherzandoci un attimo, però tornando seri è la realtà dei fatti. Questo è l'anno zero del progetto Fiorentina Basket e iniziare subito con una retrocessione. Tra l'altro lo ricordiamo in una realtà come quella toscana che se escludiamo il caso di Pistoia e il caso di Siena che sta cercando di tornare... E comunque sanguina ancora. Esatto. È comunque con molte realtà, anche nella provincia di Firenze. Quindi il fatto di aver avuto comunque un'ambizione importante anche per quello che doveva essere lo sviluppo del progetto inevitabilmente potrebbe andare a cozzare con il risultato sportivo. Forse un ancora di salvataggio potrebbe arrivare indirettamente dall'ennesimo fallimento di Napoli che lascia sostanzialmente svincolato il proprio roster. Potrebbe esserci un intervento last minute sul mercato per queste ultime tre partite ed eventualmente per la post-season. Quindi play-out. Però sembra veramente un mettere una pezza, una toppa su una stagione con già troppi strappi, troppi buchi. Anche perché poi, Francesco, lasciami aggiungere, poi chiudiamo, ci ricordiamo benissimo di come andò in una precedente esperienza fiorentina del basket con l'Africo, l'Enegan-Africo, che andò a pescare sul mercato proprio nelle ultime giornate e forse pescò anche male mutando ancora di più forse degli equilibri già fragili come quelli dell'Africo in quella stagione. Infatti in questo senso credo vada comunque capito e apprezzata anche la strategia del GM Fagotti, della società, di coach Salieri di non intervenire tanto per farlo. I risultati comunque stanno dando ragione perché può ancora salvarsi direttamente la Fiorentina. Vedremo se arriverà qualche rinforzo comunque dal mercato. Ovviamente staremo a vedere, noi ci saremo, saremo sempre pronti sul pezzo per informarvi anche sugli eventuali nuovi acquisti della Fiorentina Basket e soprattutto su quello che saranno poi le gare. Francesco, benvenuti, ovviamente sarà la nostra voce e tornerà a trovarci anche martedì prossimo. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi, Francesco. Grazie a te Fabio e buona serata a tutti. E ovviamente l'appuntamento con T-Sport è a domani alle ore 19. Stasera non perdete l'appuntamento delle 21.20 con Zona Gold. Stasera non perdete l'appuntamento delle 21.20 con Zona Gold.